Beh, ma tu sei tipo sei lì in macchina, dice stamattina i figli a scuola li accompagniamo insieme E arriva la chiamata di Ivano Padel Ivano Padel, sì Buongiorno e benvenuti alla quarta puntata di Kashmir incontra Netflix, un Tudum morbidissimo Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti Ah, giustamente, sì, non perdiamo le buone abitudini Te l'hanno fatto notare, eh? Alcuni sì, alcuni sì Ti sei imborghesito Eh, che Netflix mi ha fatto un po' dimenticare l'SMR, ma noi rimaniamo fedeli a chi siamo Tra l'altro ci saranno grandi show di ASMR, forse con te protagonista, chi lo sa Cioè chi l'ha chiesto Chi può dirlo? Chi può dirlo? Mi hanno contattato apposta per fare uno show sull'SMR Dall'America, esatto Su Netflix, esatto, esatto Edoardo, quarta serata Grande serata, punto di domanda? Ma certo che sì, i duetti è più che si mettono insieme i talenti migliori del paese Per fare delle canzoni ancora più belle È stata una serata molto variegata, diversa Breve, sintetica, veloce Sì, molto, molto, sì, sì, sì Portata a casa, è stato come bere quattro bottiglie di amaro Sì, esatto, tutte diverse poi Tutte diverse Marche diverse, erbe diverse, lavorazioni diverse E lo so, continua la confusione Però comunque siamo frastornati da questo festival Che però continua a regalare meravigliose emozioni Ieri cover e duetti, certo, mancava La più grande coppia italiana La più grande coppia La coppia di artisti più importante Che davvero poteva dare qualcosa di più a questo festival Nel quale è mancata, insomma, opinioni lucide un po' sulla contemporaneità E cioè Pio Amedeo È stato un peccato non vedere Pio Amedeo sul caso Che canzone gli avresti visto cantare? Ma secondo me potevano fare il cobrano e un serpente Quella coppia è mancata Ce ne sono mancate anche altre Che avremmo voluto vedere volentieri Esatto, una che si era formata per la prima serata Il vero gruppo d'ascolto italiano è stato fatto Morgan e Fabrizio Corona Una serata sobria a Milano Hanno fatto tutte storie raccontando Si immagina il tipo che gli portava Che non so, magari ordinavano un cheeseburger Che apriva la porta di casa e trovava un tranquillo Morgan Sì, un tranquillo Prego, aspetti un momento e vado a prendere la mancia Aspetta, vado a prenderti la mancia Devi stare tranquillo Guardi, signor Morgan, lei deve stare tranquillo Sì, hai ragione, scusa Dall'altra parte c'è Corona che gli fa un video nel dubbio Perché comunque non sai mai se puoi ricattare o no Tu intanto il video fa Poi vai a sapere che è quello un giorno, non so Amici evaditi, come si suol dire In quel di Catania A proposito di Catania, un saluto ad Alice Liveri E a Cecilia Attanasio Che non è di Catania Ma comunque Sposa la città Sposa la città, buongiorno Buongiorno Come state? Bene Provate da questa prima sera Io invece ho apprezzato molto la serata duetti Meglio la serata duetti di quella precedente Meglio le canzoni degli anni 70, 80, 90 Che quelle degli anni 20, possiamo dirlo? Una provocazione Provochiamo Questa è una provocazione Sì, è una provocazione vera Non lo sappiamo Forse chiediamola al grande esperto di musica Potrebbe essere d'accordo Carmelo Avanzato Carmelo, buongiorno Buongiorno, buongiorno Sinceramente non ho avuto il coraggio di vederla Allora, guarda Io ti dico soltanto una cosa Di serata cover Ben due artisti si sono cimentati in battisti Michele Bravi e Giusy Ferreri Ricordiamo che Michele Bravi In realtà ieri era doppiato da Tahir Hussein Sì, nessuno li ha mai visti nella stessa stanza Michele Bravi e Tahir Hussein Io vorrei, non vorrei Ma se vuoi Ma qual è il senso di fare una cover? Per quale motivo dovrebbe prendere dei punti Una canzone? Carmelo polemicissimo Esatto, vallo a dire a Morandi Che ha sbalzato in testa la classifica Non in testa ma secondo tipo Ha sbancato completamente ieri Gianni Morandi Gianni Morandi con Giovanotti Ha sbancato lui o Giovanotti Che gli ha rubato la scena un po'? Non lo so Poi sì, povero Giovanotti Non si esibiva da un sacco di tempo Giovanotti Giova Beach Party Esatto, sì Il Giova Beach Party Ancora l'ha infradito praticamente E le tartarughine morte Il party preferito dalle tartarughe di tutto l'Italia Di tutto il Mediterraneo Esattamente È stato preso e ributtato a Sanremo No no, quello sì È stato un grande momento Che ha mandato in tilt la classifica Ah sì, sì, sì Ora ci vuole una malvagia Vi ricordate quando Camilla Raznovic Fece vincere alla fine Mahmoud Che doveva vincere ultimo Quello era l'anno del patriottismo Ultimo, ultimo E poi però c'è stato il momento Facciamo vincere Mahmoud Camilla Raznovic e la Dandini L'ha prese molto bene ultimo Sì, sì, sì Mi ricordo che fu molto tranquillo, democratico Non ebbe nulla da dire Ma Camilla Raznovic può fare tutto quello che vuole Essendo la persona più importante della mia adolescenza Poi indagheremo i motivi su questo Esatto Classifica, una parola Spendiamo una parola per l'amico L'amico Tananai L'amico Tananai è la salernitana Non solo parte male, sempre ultimo Però bisogna dire la verità Lui ha un personaggio particolare Ma la sua canzone è molto orecchiabile Molto orecchiabile No, no, infatti noi l'abbiamo rivalutata profondamente Se riesce a non limonare con la telecamera Non fare quelle porcate che fa Se riesce a non risporcare A rispargere droplets Su tutte le superfici del teatro Ariston Per cortesia Questa sera potrebbe avere anche forse il nostro voto Salutiamo anche quel bel confronto Che è stato fra gli anni 90 e gli anni 20 Irama e Gianluca Grignani Bellissimo momento Dark Knight Joker Sobrietà sul palco Lucidità Sì Diciamo che Se fosse intervenuta poi la polizia Bisognava fare un palloncino al palco dell'Ariston Cioè a certo punto All'etilometro era positivo anche il violinista Però quanto era bella quella canzone Bellissima Bellissima Canzone stupenda anche quella lì Bellissimo momento anche a proposito anni 90 Il duetto di Emma Porca miseria Esatto Su Baby One More Time Straordinario Emma e la Micheline Sì Fanta Sanremo Tutti quanti fanno questa cosa del Fanta Sanremo Sì 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 Il Fanta Sanremo sta andando fortissimo Quest'anno Poi sono cose sempre più pesanti Cioè Fra un po' bisogna tirare un pugno sul naso Sì esatto Cioè Emma che si è spogliata a Piazza Duomo Così Cioè sì Irama ha messo una bomba a Piazza Fontana di nuovo Ragazzi Fanta Sanremo dai Oh solo per voi Eh ma forse non c'era bisogno di E poi altre cose Ah ragazzi Forse il mio duetto preferito è stato fra Achille Lauro e Loredana Bertè E io qui vorrei prendermi un minuto Signori Perché se noi Occhio a non fare Non fare body shaming Non fare cose Non voglio dire niente Te lo dico solo prima Io voglio dire che Se si inventasse una macchina del tempo Per andare in tutti gli anni del nostro secolo E uno potesse soltanto osservare le gambe di Loredana Bertè Signori fino ad oggi Fino al 2022 Non si rendere conto di che anno è Perché quanto sono ancora belle Le gambe di Loredana Bertè Lo vogliamo dire un'altra volta Facciamo un applauso alla merceria Che le ha venduto quelle calze 180 denari Esatto Sì 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 Penso che se ci tiri le calze Puoi usarle come Sì puoi usarla per bloccare il flusso di acqua Esattamente Esatto Momento straordinario Molto bello quando lui le ha fatto leggere quella poesia Lei l'ha trattato come Come un piccolo schnauzer che ti porta un legnietto Sì Che carino Quanto è carino Quanto è carino Che mi ha portato la lettera Eh sì è stato un po' rimesso al suo posto Diciamo Loredana Bertè può farlo Gli ha chiesto scusa poi a Achille Lauro Per cosa non si sa Non si Perché gli ha chiesto scusa Forse si erano conosciuti su Tinder anni fa Ah tutti sì Un brutto appuntamento Scusami per quella brutta foto che ti ho mandato Non avevo capito Non avevo capito Non avevo capito Non lo so Non lo so Tra l'altro cito il commento di un mio amico Che ha detto Achille Lauro fa poesie Fa quadri Però quando deve cantare Ah Questo l'hai detto tu Questo l'hai detto tu Chi è questo tuo amico Un mio amico Effettivamente Quando stava per partire il ritornello Di Sei bellissima Eravamo tutti lì Quando parte un jumbo Troppo pesante per decollare Secondo me non s'alza Sì 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 Non s'alza E infatti poi ha fatto una scelta di campo Cioè farla con una voce molto diversa Eccetera eccetera Ci spiace che altre coppie non siano andate Tipo sarebbe stato stupendo Veder cantare Che ne so Trottolino amoroso Da Parenzo Cruciani Molto bello Molto bello Allora ti chiederò Trottolino amoroso Trottolino amoroso Trottolino amoroso Non fa così la canzone Vado via Vado via Vado via Vado via Vado via Ti prego con questo Quanto ipocris Quanto ipocris Quanto ipocris Quanto ipocris Un trottolino amoroso Come fai a non mettergli una parrucca verde A trottolino amoroso Dai Farci una cosa di bondi E dai Ti prego Il bondage con trottolino amoroso Ce lo devo fare Ma dai Ma sono veramente Un perbenista A Boldi e De Sica Cosa avresti fatto cantare A Boldi e De Sica Tu Che cazzo gli daresti A Boldi e De Sica Guarda che loro però Secondo me è un white christmas Comunque Ancora Last christmas Last christmas Anche a febbraio E vabbè Giusto ma quante coppie Ci siamo persi Però ieri c'è stato Un momento Particolare Dove come sempre succede All'interno del festival Si celebrano I grandi prodotti Dell'azienda che lo produce Che non nomino Ci giro intorno Tanto sappiamo tutti qual è E C'è stato Il raccontato Di questa serie Blanca Sì Giusto no Con l'attrice Protagonista Che era la co-conduttrice Co-conduttrice Esatto Esattamente Chiara Giannetta E E' una serie molto bella Una serie molto coraggiosa Perché trae Punto insomma Da un Drama Sì da un drama Si è accaduto Cioè E' la storia di questo Elettricista brasiliano Il quale In Brasile Insomma Ha un incidente sul lavoro C'è E Diciamo Ottiene questa capacità Questo superpotere Di dare la scossa Alle persone che ha Che avvicino Gli vengono i capelli Di Loredana Bertè Gli vengono i capelli Di Loredana Bertè E l'unico posto Che trova nella società È L'unica sua rivalza È quella di diventare Un combattente di strada Uno street fighter E allora E allora è lì che inizia Il personaggio Blanca Davvero ad avere Il suo sviluppo E inizia a combattere Incontra altri personaggi Straordinari Nella serie C'è l'incontro Con Mr. Bison Mr. Bison Ryu Con Ken Con Ryu Assolutamente Con Chun-Li Con Chun-Li Electro di Spider-Man Questa La trama di Electro Di Spider-Man Allora Allora Ha parlato il Gen Z Mi sta facendo una gag Era una gag Sofisticatissima Su un frilo si teneva questa cosa Tu ti permetti Di essere nato nel 99 Ken street fighter Esatto E ci rovini una gag Che ci avrebbe portato davvero Sul palco dell'Ariston Se permette Neanche me ti è salutato Oggi sei partito Imitazione Ecco perché c'è il Denti avvelenato Farti abbassare un po' Il crestino Il dentino avvelenato Di Tahir Hussein Una poesia come Achille Lauro Con la Bette Chiedetemi scusa Come Achille Lauro Sempre caro Sempre caro Mi fu quest'ermocolla Che da tanta parte Nell'ultimo Riccardo Il quarto esclude Ho tagliato un pezzo Perché comunque Il ginnasi L'ho fatto un po' L'ho fatto all'istituto XYZ Di Caivano Di Napoli La mia maturità Sono state 300.000 lire Scusa Shitair Però pure te Che vai a cantare Battisti Però complimenti Per i capelli Ieri Quanto ce l'hai messo Per fare quella cosa Un po' troppo Secondo me Anche secondo me Grande serata Grande serata Ah Flessioni di Amadeus E Ercomi Bel momento Grande momento Inclusivity Sì Inclusivity Verso persone Che non dovrebbero fare Le flessioni Però tu immagina Se c'hai Amadeus Personal trainer Basta Allora Tu devi lavorare molto Su quel quadricipite Tu statti Attendo Lavoriamo Facciamo un po' Di back squat Poi ci facciamo Quattro serie di Hammer Karl Fai 12 per 20 Appropriazione culturale Se lo fai napoletano Poi tu mi devi stare Attendo Lavoriamo sul tricipite Allora tu mi devi fare Le aperture Ma è stata bella La risposta di Ercomi Quando Ercomi Tutto palestrato Sì mega palestrato Uomini a torso luto Quest'anno saremo tutti Tutti Chiunque Cioè mancava soltanto Gianni Morandi Sì veramente E Amadeus si è detto Ma come sei forte Come sei E lui gli ha risposto Mi fa stare bene Psicologicamente Certo Ma se rispondi così Sul balco l'ariston Dal terapeuta Come rispondi Non lo so Allora Ora io Mi piace mantenere Un rapporto professionale Con i miei pazienti Se per cortesia Si può vestire Per cortesia Se mi può parlare Di sua madre Non necessariamente Nudo completamente Senza indossare i pantaloni La ringrazio Dottor Ercomi No Grande momento Molto bello E c'è stato un momento Insomma È stato un peccato Vedere I snob E who In particolare High snob Con i tatuaggi Coperti Allora sveliamo anche noi Questa cosa Sono quattro puntate Sono una vita È una vita Che io e Edoardo Giriamo con dei tatuaggi Che ci copriamo Col fondotinta Anche noi Siamo tatuati in faccia Se gratti bene Trovi il codice fiscale di qua Partita IVA Sopra Sopra Io ho l'Iban Qui sulla fronte E abbiamo fatto anche noi Questa scelta Per rispetto Insomma Non vogliamo Mostrare cose Di cui ci siamo pentiti Tanti anni fa Non da quando si canta Poi Tenco Luigi Tenco Sì Bellissimo momento Anche il disegnetto Di Amadeus Sì Sì Sembrava tipo Un test attitudinale Per entrare in quinta elementare Quando cambi città Sì Forse I maturi Il viaggio E lui non aveva fatto L'esame di quinta elementare Quindi ha detto Facci il disegnetto Ama E lui ha fatto una cosa Ma proprio anche col cane Stilizzato Mamma papà E il bambino Che tiene per mano i genitori E ha scritto Festiva Festiva Vabbè La tensione Sì Noi in realtà abbiamo ipotizzato Che fosse una scommessa All'ennesima stronzata Del Fantasarremo Cioè di non dire La lettera L Per tutto il festival E quindi Era tutto Oredana per te Un omaggio a UIGI Tenco Dobbiamo rivedere Ce lo rivediamo In Col VAR Il Fantasarremo Sta sfuggendo di mano Totalmente Totalmente Sì 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 Cioè fuori controllo Sì si d'Argen Che bacia la telecamera No 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 Quello lì abbiamo visto A proposito di Fantasarremo Io Per il Fantasarremo Me lo tiro No sto scherzando Sto scherzando Cosa come si Adesso Siamo all'ultima puntata Achille Lauro A questo punto Deve uscire il pesce Lo esce Lo stavo infatti citando In realtà Achille Lauro Grazie che hai colto La citazione Ci porti Achille Portaci in pescheria Sono sicuro Di fare una figura Straordinaria Questa soglioletta La mugnaia Achille Se ce la porti Ce la offri Ci fai vedere Mi è andata Attraverso l'acqua Come hai detto Sognoletta La mugnaia Pensando Achille Lauro Vabbè Invece Sarà proprio Quello che succederà Questa sera Sono quattro sere Che noi ci guardiamo Il festival insieme Siamo sempre noi due Alice Cecilia A vederlo a segnare Ma non c'è niente di meglio Noi facciamo una coppia Alla seconda Non c'è niente di meglio Che vederlo In coppia E a proposito di coppia Noi Quest'oggi Abbiamo qui Una coppia Nello spettacolo Nello spettacolo Benvenuti Lucrezia Guidone E Michele Riondino Benvenuti Grazie 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 a voi ragazzi Grazie per essere qui Allora Fino a che ora Siete riusciti a resistere ieri Guardando la puntata Del festival di Sanremo Sono in dritto Non hanno dormito Ah veramente Io l'ho vista tutta Con delle piccole pause Un attimo di Che sinceramente Non ricordo cosa è successo C'è tipo dei vuoti Però l'ho vista tutta Fino alla fine Allora Io ero molto orgoglioso Di poter venire qui E dirvi che Fino a Mezzanotte e un quarto Ero stato Attento Però Mi sono accorto Di essermi perso Grandi Grandi Esibizioni Quindi Un abbiocco Tra un Nelle pubblicità Cercavo di Di recuperare Di recuperare l'energia Ecco Sbigato Il trucco Dell'Auditel Perché tu mi fai addormentare Lo spettatore Il televisore Rimane acceso Quello va dritto Ecco Si ci crede Fa il 79% Ma quanti svegli Dovrebbero Sare No scherzo Grandi Grandi momenti Grandi esibizioni C'è stato davvero Un momento Mentre dormivate In cui Darjean D'Amico Si è praticamente Sacrificato E ha fatto tutto Quello che gli era Stato chiesto Per il Fantasanremo Vero Tutto tranne che arrivare Cavalcando uno struzzo Defecare sul palco E morte sul palco Per quello c'è stasera Iva Zanicchi Iva Zanicchi La tenuto per l'ultima serata Sì sì È la sua vecchia gag Stasera si esibisce Con un divano Poi vediamo Cosa succede Sì poi non sappiamo Quello che succederà Vi è piaciuta La rappresentante di lista? A me è piaciuta molto Quello è stato un bel momento Con Margherita Vicario Con Margherita Vicario Esatto Mi è piaciuto truppo Giovanni L'ho visto Così è facile Scusa Però era figo Con l'immancabile canotta Ma io lo adoro Io lo adoro Poi arriva lui Con la canotta Con la chitarra Da solo Tu lo conosci Quindi caldo, freddo Estate, inverno Solo canotta Solo canotta Sempre sì E qualsiasi chiuso Porca miseria No Sanremo non l'ha cambiato C'era Vinicio Caposela Sì sì Vinicio Caposela Che ha suonato con lui Esatto Sì molto chic Anche lì Vinicio Caposela Bisogna sapersi vestire In quel modo Però vedi Si equilibrava Perché comunque Quando metti la tuba Sì la tuba Te la devi veramente Saper sentire Sì Lui è Zio Paperone Che passi Sono due grandi persone Senti dello spettacolo E Grignani anche ieri E anche Grignani E anche Grignani In tuba È vero È vero Grande Grande performance Quindi Vabbè Voi l'avete visto separati Ognuno Per fatti i suoi Giustamente O con chi vi Ma Ma Insieme Avete Adesso realizzato Una serie che sta per uscire Per Netflix Che si chiama Fedeltà E che usce Un titolo Che Non Non svela molto Non svela molto Svela molto No Che esce in una data Assolutamente casuale Che è il 14 febbraio Assolutamente E cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più rilassante? Tu sei una bella coppia Bellissima Come è raccontato nel trailer Che ne abbiamo visto Siete la coppia più bella Che abbiamo mai visto Ce lo dicono Anche altri personaggi Siamo invidiati Molto invidiati Ma lo credo Però tu sei una bella coppietta 14 febbraio Tu volevi prenotare Al ristorante La fortuna Sushi no limits 19,90 euro Menù San Valentino 24,90 euro Hai chiamato L'ultimo momento Non c'era posto Tutto pieno Inizia a chiamare i delivery A casa A ritardo Dici vabbè Ci facciamo a casa Ci scaldiamo qualcosa Al microonde Però ti metti a vedere Netflix Dice Vabbè amore Nuove proposte Sì Nuove proposte Fideltà Sembra una storia carina Su due persone che siamo Guarda che belli che sono loro Come noi Sono proprio come noi Sono proprio come noi Mettiamoci a vedere fedeltà Che sicuramente Ci vogliamo ancora più bene Momento To doom Cosa succede Nella testa Di una coppia Che guarda Il primo di darvi fiducia Per vedere fedeltà Per proprio così Un po' Unire ancora di più il rapporto Dare ancora più forza Allora Fedeltà è la storia di un poveraccio In realtà Sì Che davvero Allora È un poveraccio Che viene messo in mezzo Da una serie di Storie Che quindi come a San Valentino Come in questo San Valentino Che viene chiamato Per vedere una serie Io sono senza parole Veramente Rifacendo esattamente Quello che succederà Alla fine della visione Nel primo episodio a casa Allora Lui è stato in mezzo È stato in mezzo Allora Assolutamente in mezzo Se permetti Cioè Devi pure capire Stavano insieme da tanto Quella è arrivata Cioè Oh l'uomo è l'uomo Lei è il pesante Mamma mia Ma poi loro È perché vivono a Milano Le tentazioni Esatto Ma sì Ma perché Milano La sera è ambientata a Milano Non come noi amore Che ci siamo appena trasferiti A Rio de Janeiro La città in cui le coppie Si amano per tutta la vita E stanno sempre insieme Va bene Va bene Ti esco per il carnevale Ti dico che sta arrivando L'elettricista Si chiama Blanca Poi sto partito Per la regia di Andrea Molaioli E Stefano Cipani Giusto Avete girato a Milano Per due mesi E avete raccontato Una coppia di oggi Che è messa A dura prova Quali sono I trucchi Per riuscire A sopravvivere Alla visione Di questa serie Che sicuramente Sarà molto intensa Però Allora Innanzitutto Innanzitutto Allora Evitare di mettere Il cellulare Coperto Perché quello tradisce molto Ok Sempre a faccia in giù Quindi Non metterlo a faccia in giù Ah se lo metti a faccia in giù È troppo sospetto Che fai Metti a faccia in giù Beh anche il bluetooth Comunque Cioè scollegare il bluetooth È qualcosa Perché scusa Col bluetooth Che succede? Quali sono gli equivoci Che possono Beh si inoltrano delle chiamate Che no Sei magari Beh ma scusa Tu tipo sei lì in macchina Dici stamattina I figli a scuola Li accompagniamo insieme Esatto E arriva la chiamata di Ivano Padel Ivano Padel Sì Che dice Non riesco a smettere di pensarti Esatto Mentre sei fermo al semaforo E appena fatto c'è Non ho Per lavare i vetri Non riesco a smettere di pensarti Ci vediamo stasera Sul computer di bordo Che ormai sono grandi Come uno Spirmo 57 pollici Faccia che fai Qualcuno ha tirato un freno a mano Dentro alla tua anima Amore cos'è quella roba? Guarda È un podcast motivazionale È appena partito Stai tranquillo Esatto Non riesco a smettere di pensare Ma poi è divertente la serie perché ti lancia anche dei challenge No? Sì Perché è finita la serie È tipo Squid Game Come scoprire Come scoprire Esatto Esatto Come scoprire per esempio Se il tuo Se il tuo compagno o compagna ti tradisce No? Sì Ecco per esempio Mai lasciare messaggi scritti in giro Adesso siamo nel digitale Meglio scriverli Perché il digitale Non conserva O comunque conserva bene Nasconde Ma Ma la scritta analogica Appenna Da qualche parte Può tradire molto Certo Però il fax? Il fax Certo Cicciccuc Cicciccuc Ciccicciccuc Cicciccuc Io sono stata abbastanza preventivamente diciamo cauta Quindi diciamo che mi sono fatta i fatti miei Vedi le donne più scaltre di noi Io ho pedinato Io ho pedinato, guardato, nei momenti giusti Capito? I fatti suoi se li hai fatti in molte posizioni Però scusami Sì Comode Fino a un certo punto immagino perché ci sarà quel momento Che è quel momento in cui sei seduto, stai guardando la serie E lei si prende, immagino, una rivincita o qualcosa del genere E vedi la persona di fianco a te che cambia la posizione delle gambe sul divano Perché sta a prendere i flap dell'aeroplano e sta per decollare Ha capito come si fa Senti, porto fuori il cane C'è un momento in cui c'è una necessità di portarlo fuori Ma noi non abbiamo il cane Non abbiamo il cane Ha detto il guinzaglio al gatto, andiamo Comunque andiamo Comunque fedeltà è la storia di un innocente in realtà Perché questo È davvero un innocente Fino a prova contraria Cioè sei innocente Hai scambiato la sinossi con il film di Con il film su Buscetta probabilmente Quella è un'altra Sì, sì È della storia di un innocente che non viene preso sul serio Vedi come sta Che tenerenza, guarda veramente Però vedi è uguale a Squid Game effettivamente Oh che sera che ti metterai a Ivano Padel Succedono le stesse dinamiche identiche Qual è quindi insomma il segreto Per mantenere una coppia affiatata Felice Ditecelo voi Sai quando le persone scambiano gli attori Per persone della vita rete Alla luce di questa esperienza che avete fatto Insomma appunto poi Serie tratta dal romanzo di Missyrolli Vinto il premio strega Cosa avete imparato sulla fedeltà Dopo aver girato questa serie Ma bisogna essere molto bravi A mantenere i segreti Ma in questo in generale Ma non è una cosa brutta Nel senso adesso il segreto Non è assolutamente quello Di tradire qualcuno Però insomma Curarsi Curarsi di Di mantenere in equilibrio Significa anche Non mostrare i propri scheletri Nell'armadio Avere delle zone d'ombra Aiuta Quante zone d'ombra Carmelo ha avanzato Io mi scambio il telefono con me stesso E mi leggo i messaggi E mi sorprendo ogni volta Su questo non abbiamo dubbi Diciamo non vorremmo mai entrare In quella chat Ma canzoni sulla fedeltà Ci stavo pensando Beh insomma Canzoni sulla fedeltà Ce n'è un bel po' Tradimenti ce ne sono tanti Ieri veniva citata Caterina Caselli Fu la prima donna Penso nella storia Della musica pop italiana A fare un pezzo Sul tradimento al femminile Certo Nessuno mi può giudicare Non ricordo chi ha fatto la cover Però ieri Chi ha fatto la cover ieri Di Nessuno mi può giudicare Donatella Rettore Dito nella palla Donatella Rettore Dito nella piaga Dito nella piaga Un bel nome Dito nella piaga Hanno fatto questo pezzo Poi c'erano diverse coppie Che soletti chiamano Un po' meno belli di voi Se posso dire Anna Mena e Rocco Hunt Bellissimo Due che si conoscono In un ostello A Tenerife E lui le rompe le palle Tutta la sera Poi riesce a fidanzarsi con lei A portarla in Italia E a presentarla ai suoi A Salerno Sì Loro invece Hanno fatto questa serie Tratta da Elmi Erasmus Loco È un romanzo Di un pischello Che sta al quarto anno Del Dams Ha scritto dei post Su Facebook E hanno fatto Di nuovo il romanzo Sì Quello grande momento Della serata E poi ci sono altre cover Che ci hanno colpito? Altri momenti di ieri sera Particolari Altre belle cover? San Giovanni Ah che ha cantato Una canzone di Bertoli Fiorella Mannoia Fiorella Mannoia Ah ecco sì Ragazzi Questo per dire Sempre il momento Gen Z Pare che oggi Siano usciti degli articoli Su alcune Magazine Testate Se state fondamentali Con scritto Chi è Fiorella Mannoia Il duetto di San Giovanni Beh era già successo Pure con Elodie E Marrakesh Chi è Marrakesh Il fidanzato di Elodie Pensa te Pensa te È un po' diversa È un po' diversa Sì Stiamo sempre un po' là Ma invece Questo tipo di film Sono sempre complessi Ovviamente scene di sesso A go go Non vi si No scherzo Sono difficili da girare Come si trova l'alchimia Quando si gira Una scena del genere Alla Marzul Ha chiesto questa Ma Guarda Alla fine Ti devi un po' Cioè non è che Non è imbarazzante In alcuni casi Può essere imbarazzante Però È anche Volendo qualcosa Di divertente Perché poi È tutto Molto Più goffo E Buffo dai Di quello che uno S'immagina alla fine Perché mi guardi così Ma no Non è che ansia Stavo un po' giudicando La tua risposta No no Nel senso che io Pensavo di essere Stato prestante Invece Infatti Invece Sono stato goffo No Vabbè Comunque no Può essere Può essere anche Molto divertente Con una partner Faccevi delle faccette Buffe Da lei Ogni No Mi sentivo molto virile Quando Non fate mai Gli scherzi Cioè che sul primo piano Si dice l'altro No no È davvero molto divertente Ma no Devo dire che magari Tu stai facendo queste cose Molto Passionali E c'è vicino Due persone così Che ti seguono Fa ridere Non lo so Dieci minuti E pausa pranzo Ragazzi Sì capito Poi sono sempre Tremendi quei momenti Quando finisce il ciak Che magari sei un po' Svestito C'è quell'atmosfera Che si gela E tu Insomma Sì no Perché è forte No perché Allo stop E tutto Vabbè Allora è andato bene Tutti bene Benissimo La andiamo a rifare Per cortesia Ci giriamo il controcappo Adesso Mi posso immaginare Che ci siano stati Io come Achille Lauro Ho iniziato con Streller Ho imparato Tutto Non la sapevo Questa è una bellissima domanda Che vi facciamo Vi piacerebbe Dovesse uscire Un film biografico Sulla più importante coppia Che c'è in Italia In questo momento C'è Amadeus E sua moglie Giovanna Vi piacerebbe interpretarli E se sì Che tono dareste A questo straordinario film Guardate che al momento È la coppia più importante Dello spettacolo italiano Lei viene inquadrata Praticamente sempre Certo Per cercare di ricordare Ogni reazione Sì sì Ogni reazione Sopra la mascherina Si capisce come vanno gli ascolti Dalla faccia di Giovanna Lei è il giovane Giuseppe Che viene vestito Giustamente A me fa impazzire Quella cosa Che non si mette una giacchettina No 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 Zero Comunque in felpa In prima fila a Sanremo Lui a fianco al ministro democristiano La prima fila di Sanremo È sempre il gradiente sociale del paese Questo è molto bello però Anche lì il successo non cambia Vedi No 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 Assolutamente È identico È identico Ma è vero che c'è quel ciuffo Che cita il Max Pezzali Dei primi anni 90 C'è quella specie di Giuseppe Perché adesso è tornato Anche Tahir A breve lo rifà Comunque io andrei su un thriller Ah un thriller Ci ho pensato Secondo me un thriller potrebbe essere interessante Amadeus e Giovanna La scossa Sì sai anche quegli horror Quelli molto violenti Iper violenti Sì sì Alla Funny Games No Alla Lancia Meccanica Che succede In una famiglia quasi perfetta Succede Entra Fiorello vestito da giocatore di golf Tutto di bianco Perché ricorda Funny Games E inizia a prenderli ammazzolati Pur di non fare un'altra Ferro 3 Ferro 3 esatto Ferro 3 sui denti Pur di non rifare un'altra volta Sanremo Sì non sapeva più come di chi Quest'anno Fiorello Era se ti riazzardi A rompermi il cazzo E rinvitarmi un'altra volta Anche soltanto a cena A casa tua Amadeus Io chiamo la polizia postale E poi vedo che lo rincorri Detro tutte le porte Di tutti Sì 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 Gli alberghi È fantastico No non lo lascia libero Neanche un attimo È vero è vero Bello un thriller Un horror Interessante Chissà che Netflix Non Amici di Netflix Ragazzi Orecchie bene Nuova idea Per la prossima serie Amadeus e Giovanna Una storia Tutto in una stanza Bello complesso Anche da girare Purissimo Sì 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 è un po' l'Ars von Trier Mamma mia Una cosa difficilissima Sì un'attenzione Che sale fino alla fine E poi Arriva José Arriva José E fel Ah babba Ma hai detto Altri 20 euro di paghetta Ma tu perché cambi gli accenti Amadeus non è napoletano E José non è romano Però essendo un po' una coppia ideale Capito Cioè loro per me rappresentano Un po' l'Italia Capito Quindi comunque hanno Il meglio di tutto Il meglio di tutte Le varie città Anche il titolo Potrebbe essere Profilo di coppia Guarda la titolista Guarda la titolista Assolutamente Profilo di coppia Amadeus e Giovanna Perché hai guardato Squid Game Ti potrebbe piacere Profilo di coppia Che poi mi piace Che lei sottolinea Che lui Non ne vuole uno suo Nella bio Cioè questa cosa Diceva Ok Cioè lui dice Non ne vuole uno suo Siamo sicuri Che lui Questo è l'unico profilo ufficiale Di Amadeus Lui non ne vuole uno suo Non ne ha uno suo Ma è lui È lui che non lo vuole O è forse La scaltra Giovanna E qui il thriller Che non vuole Lo puoi già annusare Il conduttore Più invidiato d'Italia Insidiato Da queste signore Che veramente Guarda Minano la fedeltà Esatto Esatto La loro coppia Più invista In questo momento Ma dal 14 febbraio Se volete rilassarvi Tranquilli a casa Guardate Fedeltà Grazie mille Grazie a voi Grazie a voi Grazie Michele Rondino Lucrezia Guidone Per essere stati con noi Grazie Tahir Grazie Carmelo Grazie Alice Grazie Cecilia Noi Grazie Luca Grazie Edo È arrivata una busta però È arrivata una busta Attenzione Abbiamo una busta Abbiamo un premio Sì Ah vai prego Miglior canzone Che ascolta a volume Altissimo Quello che parcheggia Sabato notte Sotto casa Va Sì Le vibrazioni Ragazzi Ai quali facciamo Alle quali Perché sono le vibrazioni Alle quali facciamo I nostri migliori auguri Però Francesco Sarcina Ti auguro di passare Due brutte ore Fra poco Esatto Senza dire che c'è Un appuntamento calcistico Non ne parliamo Non ci interessa Non ci interessa Noi ci rivediamo domani Per l'ultima puntata Speriamo che il derby vada bene Per Luca Ravenna Se volete vedere Una bella puntata Spero di non essere inquadrato Esatto E ci vediamo domani Per l'ultima puntata Di Cashmere incontra Netflix Un Tutum Onorbitissimo Non ci interessa